Come è andato il tavolo regionale? È stata ancora una volta una riunione interlocutoria, sostanzialmente l'azienda ha preso ancora tempo, ma anche questa volta dobbiamo apprezzare l'operato dell'assessorato regionale perché l'assessore Donazana è stata esplicita, ha detto l'azienda che ci deve dire che intenzioni ha, non può tenere queste due strade parallele. L'azienda ha detto vediamo se arrivano commesse e contemporaneamente ho siglato un contratto con un advisor per vedere se è possibile avviare processi di reindustrializzazione, sono due cose che non possono stare assieme e quindi Shokor, la casa madre, deve dirci che intenzioni ha su Socoterm. Noi abbiamo sempre insistito perché Adria sia appetibile dentro il sistema Shokor, hanno chiuso l'anno scorso 6 siti, oggi la dirigenza ha dichiarato 7 e quindi abbiamo mandato 17 milioni di euro che risultano da bilancio alla casa madre, bilanci 2018-2019. Quindi noi abbiamo insistito affinché il sito di Adria rimanga aperto e rimanga Shokor. devono dirci se gli interessa restare Adria, questa è la sostanza e oggi non ce l'hanno detto, l'incontro è stato fissato, aggiornato tra un mese e tra un mese davvero devono dirci che intenzioni hanno, se gli interessa Adria o meno. Innanzitutto abbiamo portato la solidarietà da parte di tutta la CGL, indipendentemente dalla categoria, perché questo tra l'altro è un sito produttivo storico di Adria e di importante. Quello che per noi è inaccettabile è che la multinazionale, oltre che non dire che il futuro vuole dare a questo sito, rischia di desertificare ulteriormente come sta avvenendo questo territorio. Questo è un sito con delle professionalità importanti, che ha sempre dimostrato grande capacità di adattamento alle esigenze produttive e alle richieste dell'azienda e che ha sempre risposto in maniera corretta, in tempi e modi, alle commesse che arrivavano. Quindi noi crediamo e pretendiamo che possa rimanere in essere questo sito in piedi e sia in grado di fornire risposte adeguate in termini produttivi, sia di qualità che di quantità di prodotto. Per questo vogliamo tenere insieme i lavoratori, le istituzioni locali, per convincere l'azienda che Adria deve rimanere e non deve rimanere, come è nel loro obiettivo, un sito con poche persone a tempo indeterminato e poi pieno di precari nel momento in cui dovesse arrivare le commesse, perché noi vogliamo anche la qualità del lavoro che ha sempre dimostrato Socoterm ad Adria. Sì, dovevamo uscire dal tavolo della Regione oggi con risposte per i lavoratori dipendenti di Socoterm, afferente al gruppo Socoterm, però anche oggi una risposta definitiva è certa e che chiarifichi quali saranno le sorti dello stabilimento di Adria non è arrivata. Ci sono due ipotesi, tra di loro parallele, che non possono confluire, nel senso che o Socoterm mantiene il sito di Adria, non si è capito nemmeno in che dimensioni, o dall'altra parte c'è una società di reindustrializzazione che chiaramente dovrà modificare quello che è l'assetto produttivo e la strategia produttiva del sito di Adria qualora ci fossero società interessate all'acquisizione. Per cui il futuro dei lavoratori di Socoterm da gennaio del 2020 è garantito da un punto di vista economico retributivo esclusivamente dalla Cassa Integrazione. Che ci siano prospettive effettive di ripresa dello stabilimento? No. Ci sono state delle manifestazioni non solo di interesse, ma proposte di assuzione a singoli lavoratori, aziende interessate alle figure specifiche. Chiaramente Socoterm è un'azienda che è da più di qualche decennio sul nostro territorio, che ha professionalità molto interessanti e soprattutto qualificate, che chiaramente alcune aziende del territorio hanno già manifestato l'interesse all'assunzione di determinate figure qualificate e destinate ad altre attività. Se ci chiedete il futuro di Socoterm Adria, ad oggi attendiamo ancora il prossimo incontro con Sciocoro. Vorrei fare un commento breve, io sono sindacalista interno votato dagli operai, sinceramente noi ci siamo rotti le palle di lavorare in questa maniera. È un anno che andiamo avanti con 900 euro, un monoreddito, chi ha il mutuo, chi ha i figli, è una cosa assurda. Continuiamo in questa situazione, continuano a dirci che non c'è soluzione, vedremo, usando il condizionale, vi sapremo dire, vedremo cosa fare, che siano chiari, diteci cosa volete fare, volete chiudere, volete tenere aperto per quante persone. Noi vogliamo avere risposte, siamo stanchi, non ne possiamo più, è impossibile andare avanti in questa maniera. Grazie. Grazie a voi e scusate lo sfogo, ma la gente non ne può più. Grazie a voi e scusate lo sfogo.